E allora bella ragazzi e bentornati nel Homewolf 92 channel Siamo tornati con uno spacchettamento Era un po' che non lo facevamo Cioè nel senso perchè poi sapete che non sono un appassionato di spacchettamenti Ma ogni tanto quando escono questi tots Mi fomento e quindi devo trovarlo qualcuno Intanto apriamo questo primo pacchetto Che è un pacchetto che ci hanno regalato a quanto pare Abbiamo schippato Fa schifo come al solito E allora andiamo ragazzi Oggi ne apriamo Mmmmm Ma io direi di aprirne 8 ragazzi Apriamo 8 pacchetti perchè i soldi sono quelli che so Quindi andiamo a vedere il primo 15 Forza e coraggio Stronzo abbiamo trovato Carrick, Topua E Coca E Correa di Arrea Che poi Correa spacca ragazzi Cioè non so se avete mai visto la mia prima carriera Correa era fortissimo Oh però abbiamo preso questo Evviva abbiamo riscattato un oggetto Che bello Il telefono squilla Bella mondezza ragazzi Eh c'è poco da fare Andiamo al secondo Al secondo Il secondo sarà sicuramente più fortunato Il secondo è più fortunato Il secondo è più fortunato Burdissimo 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 Ti è tu Lei te Malo 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 E re non se gagna Che se chiere No Ragazzi Martinez mi gusta però Buono Origi Ma perché non trovo mai niente Perché quando spacchetto Non trovo mai nulla Non trovo mai un cazzo Se non va neanche il terzo ragazzi Inizio a mettermi occhialetti Di tutti i colori Io lo dico Terzo pacchetto Terzo pacchetto Eccole lui Merda saga Dai però Oh No veramente Oh Ma non scherziamo Che schifo è Primo paio di occhiale Dattivo James Bond All'azione Quarto pacchetto Sì Questo è il quarto Questo è il quarto Ragazzi Questo è il quarto Quindi Poi ne mancano altri quattro Questo è il quarto Ma lo troviamo adesso Ben dietro Samuel Ma ancora gioca a pallone Samuel Parlac Cod C'è raga Vediamo come sarà Sput 15 Ma io non li trovo Tanto non lo trovo Non trovo niente Non trovo niente Non trovo niente Neanche il pianto frutta Non trovo niente Della bella Oxip camp Caligiuri Balde Jace L'unico che Conosciuto Per quanto mi riguarda No non è bello Sono conosciuto tutti Però dai veramente Sesto pacchetto Sesto pacchetto Adesso se non trovo niente Succede il caos Succede il caos Bistro Dai Ma lo stai a far posta Io tutti questi soldi Non ce l'ho Non posso Settimo pacchetto Oh Se neanche al settimo pacchetto Esce niente Utilizzerò la potenza Di tutti gli occhialetti Roba che può capitare Una volta in tutta la storia Qui c'è qualcosa C'è Gundogan Elton Flamini Erkine Pedro Salvio Ma Ma Piangete insieme a me Potenza dei quattro Però la potenza dei quattro La andiamo a vedere Con un pacchetto promo Ragazzi Oro rari 25.000 E' l'ultimo Che possiamo fare Perché sennò poi Scoppia l'America Non lo so Cosa succede Menti i pacchetti Rimasti Io non lo so Non lo so Ma qui c'è qualcosa Lo vedo Lo sento Adesso rivoglio Tutti i miei soldi Se non scoppia La terza guerra mondiale Allora un altro pacchetto Da 15 Lo apriamo Ragazzi Era questo Quello che era La potenza dei quattro Occhialetti Qui c'è tutto C'è tutto Lo sento Lo vedo Non sento Non vedo Non faccio nulla Non Non ho parole Ho speso 150 Cacchi Basta Ben finito il nostro Spacchettamento Ragazzi Ci rivediamo tra Due anni Con FIFA 18 16 Da guarda Come sempre Va di merda Ragazzi Io con questo Vi saluto E al prossimo video